Il ricorso in appello dei legali difensori di Salvatore Parolisi sarà depositato entro i prossimi sette giorni. Dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio della moglie Melania Rea, i difensori dell'ex caporal maggiore sono pronti a ricorrere in secondo grado, con il ricorso alla Corte d'Appello. La terna difensiva, composta dagli avvocati Nicodemo Gentile, Walter Biscotti e Federica Benguardato, sta assemblando il corposo ricorso con il quale chiederanno di riformare la sentenza di primo grado che doveva essere inoltrato entro i termini fissati all'11 marzo. I legali sostengono che a carico di Parolisi sia stato condotto un processo indiziario senza la prova concreta che ad uccidere Melania sia stato il marito. Salvatore Parolisi, visitato ieri dall'avvocato Benguardato, confida nel lavoro dei suoi difensori e all'interno della casa circondariale di Teramo è determinato a conseguire un secondo diploma in agraria grazie a una convenzione tra l'Istituto Penitenziario e l'Istituto Tecnico di Poppa di Teramo.